San Lorenzo 2020, quest'anno senza la processione, ma ancor più dietro a lui, come l'8 agosto con la raccolta alimentare di San Lorenzo per le famiglie in difficoltà dell'emporio Caritas, il 9 con la veglia di preghiera in Duomo, il 10 agosto con la messa solenne alle 11 del mattino e la consegna del grifone d'oro la sera. San Lorenzo, la festa di tutti!